Invece quest'anno è novembre, lo candidiamo al sito del quellocheconta.gov.it, quindi sarà uno degli eventi che vengono fatti in tutta Italia, ufficiale, col patrocino Mondo Padrano, Università Popolare. Ci sarà il professor Alex Ricchebono, che viene da Milano, che è un bravissimo docente, è affascinante per quanto riguarda anche la storia della moneta, ma ci parlerà dell'arte, quindi l'arte nella moneta. Una bella cavalcata di un'oretta molto simpatica e ci sarà la giusica, che ci sarà due dati anche dal punto di vista operativo dell'arte, i numeri sono numeri? Toccano sempre a me i numeri. Si svolgerà più o meno dal 18 e 30, 19, un'oretta, un'oretta e mezza, un piccolo aperitivo alla fine, così conoscete anche i docenti. Una cosa carina, mi invito a partecipare perché è una cosa un po' diversa, i concetti dell'arte e della finanza, è una cosa diversa, con Alessandra.